Questa domenica alla Spezia ci sarà una manifestazione organizzata da dei ragazzi, dei ragazzi che sono studenti soprattutto della nostra città, spezzini italiani, una manifestazione contro il terrorismo. Abbiamo ideato questa manifestazione perché condanniamo il terrorismo. Noi non siamo assolutissimamente d'accordo con questi episodi recenti che sono capitati a partire dal primo attacco a gennaio, sempre a Parigi. Siccome l'Isis parla a nome dell'Islam e parla a nome della nostra religione, noi vogliamo far capire alle persone, soprattutto ai francesi, perché sono i primi ad essere attaccati, colpiti, che l'Islam non dice nulla di tutto ciò che l'Isis vuole trasmettere. Ecco, domenica, lo dicevamo, questa manifestazione dove ci saranno anche dei simboli, delle magliette, è un messaggio importante? Sì, il nostro messaggio più importante è che dobbiamo dimostrare a spezzini e al mondo, agli italiani, che noi siamo musulmani e non terroristi, tra l'altro. E poi sul discorso delle magliette abbiamo pensato di scrivere degli hashtag tipo I am a muslim, I'm not a terrorist, per esempio. Poi pay for pari, eccetera, altre cose. Dove verrà svolta? Partiremo dalle 4 in Piazza del Mercato e non rimarremo fermi, perché vorremmo che tutte le persone ci vedessero, vedessero i nostri cartelloni, le nostre magliette, i nostri piccoli simboli, che vorremmo trasformare in un grandissimo gesto. E ci sposteremo per tutto Corso Cavour, fino ad arrivare in Viacchiodo, e ritorneremo su per via del Prione, fino ad arrivare in Piazza Garibaldi e lì faremo un minuto di silenzio che sarà rivolto per tutti i caduti.